Sono tornato perché ho bisogno di trovare la mia serenità e questo è un ambiente sicuramente sano, dove ho lasciato il cuore, non tanto per il calcio, ma proprio per ritrovare una serenità extracalcistica, quella serenità che mi è stata tolta un po' di tempo fa per dei problemi che si sono inventati. E niente, sono qui con tanta voglia di ripartire e di far subito bene qui a Varese. Il mistero visto in campo è molto medicoloso, me l'hanno già detto, cura molto i dettagli, quindi sono veramente contento di essere qui, ripeto, per dare un contributo importante. Mi aspetto più che altro di dimostrare quello che valgo, niente, quello che bene o male già la gente conosce, sicuramente un po' più maturato, quindi cercherò di dare un pochino di più, di far bene e di raggiungere obiettivi importanti.